Discover Piceno, si chiama così il nuovo gioco digitale itinerante per scoprire le ricchezze del Piceno. Per capire di che cosa si tratta abbiamo qui con noi Antonella Nonnis, presidente del consorzio Discover Italy e Francesca Pulcini, referente del progetto Discover Piceno. Allora Francesca, l'iniziativa è promossa dal consorzio Discover Italy e finanziato dalla Regione Marche. Sì, abbiamo aderito a questo bando con convinzione perché il turismo ormai deve passare anche dall'innovazione e questo progetto va proprio in questa direzione perché ormai tutti siamo abituati a visitare le nostre città, a conoscere e scoprire attraverso i nostri cellulari e quindi abbiamo voluto mettere insieme tradizione e innovazione partendo dalla straordinaria bellezza della città di Ascoli Piceno per sperimentare una caccia al tesoro 2.0. Quindi questa applicazione permetterà di scoprire dei luoghi inediti a secondo due percorsi, uno classico, una Ascoli classica e una Ascoli romantica, proprio per permettere ai turisti di visitare in maniera ormai sempre più innovativa le nostre città. Sarà possibile anche attraverso percorsi dedicati alla bici oppure al monopattino perché ormai vediamo che sempre di più nelle nostre città, soprattutto anche le città d'arte, ci si muove in maniera sostenibile e quindi ci saranno questi percorsi specifici proprio per andare nella direzione di promuovere anche la sostenibilità, per cui una grande sperimentazione che ci permette di mettere appunto gli elementi tradizionali a sistema con l'innovazione e ovviamente non potevamo mancare questo appuntamento così importante per innovare e mettere in circolo nuove energie per il turismo, per scoprire le nostre città. Assolutamente. Allora, Antonella, lei è presidente, com'è nata l'idea di questo progetto? Beh, è nata all'interno del pensatoio di Discover Italy. Discover Italy è un consorzio che mette a sistema, diciamo, molte delle imprese del picchino che si occupano di turismo legate al turismo culturale, perché la riflessione nasce proprio su come la cultura delle nostre tradizioni e del nostro patrimonio possa diventare un volano per un nuovo turismo, una nuova produzione. Ecco qui il gioco, il gioco è insito nell'uomo. È un modo perché, curioso, noi intorno al 2018 cominciavamo a ragionare su come rendere protagonista il visitatore e nasce appunto l'idea di fare una caccia al tesoro. Ora, tempo è passato perché abbiamo avuto, insomma, le difficoltà che conosciamo tutti quanti con la pandemia, però pensiamo che ancora questo mettersi in gioco da parte del turista ma anche del cittadino sia sempre una soluzione valida e quindi interessante per tutti. Allora, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione se volete aggiungere qualcosa. Sicuramente invitiamo tutti per la presentazione ufficiale che faremo della nostra app, quindi continuate a seguirci sia sui profili social che sul sito del Consorzio Discovery Italy dove racconteremo e daremo l'appuntamento per fare questa prova zero che ci permetterà di ovviamente non scoprire completamente ma dare un assaggio ai turisti ma anche ai cittadini perché poi non dimentichiamo che spesso anche noi che abitiamo questi luoghi non li conosciamo fino in fondo, non conosciamo poi anche aneddoti, storie e diciamo simpatiche vicende che sono accadute nei nostri territori e che invece purtroppo rimangono in quella tradizione anche raccontata che spesso quindi sfugge. Quindi grazie al lavoro anche delle guide che stanno mettendo insieme questo percorso sarà possibile scoprire in questa modalità così innovativa e simpatica questo territorio. Ci tengo a dire che ovviamente essendo una caccia al tesoro, essendo un gioco ci saranno dei premi a disposizione quindi invitiamo anche i residenti ad unirsi con noi a questa presentazione per avere un'anteprima e diventare anche promotori noi stessi ovviamente del nostro territorio. ci sarà un hashtag attraverso cui sicuramente saranno veicolate le tantissime belle foto che i turisti e appunto anche i residenti vorranno scattare nell'ambito di questi percorsi quindi diciamo è un gioco a crescere. Grazie allora per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento su Radio Azzurra.